Obiettivo sicurezza. La Questura ha guidato un'operazione che ha coinvolto oltre alla polizia anche i carabinieri, le fiamme gialle e la polizia locale di Vicenza. Fari puntati sulle zone attorno all'istituto Lampertico, alle sale scommesse e poi ai quartieri più segnalati dai cittadini, Campo Marzo, Piazzale Bologna, Viale Milano, la stazione ferroviaria e Mercato Nuovo. Identificate 159 persone e 42 veicoli, ma i controlli si sono stretti anche su Via Catalani per verificare le segnalazioni dei residenti del quartiere. In un'abitazione sono stati trovati due immigrati nigeriani, uno di 38, l'altro di 27 anni, che sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile. Nei loro confronti il questore ha firmato un provvedimento di espulsione con ordine di abbandonare l'Italia entro sette giorni. Nel caso in cui non ottemperassero, potranno essere arrestati ed espulsi con accompagnamento alla frontiera.